Che ne sarà di noi? Non me la sento di sparare sulla croce rossa, non me la sento per rispetto di noi stessi, della storia della palacanestro a Trapani, per chi ci ha messo energie e soldi, per chi è alimentato da una passione che va sempre tenuta in considerazione. Certo, è grave cosa è successo ieri, vi rassicuro c'è stato di peggio, anche se molti l'hanno definita la pagina più triste del basket trapanese, come quello che accadde il 18 aprile del 1996, alla fine della gara contro Cantù, quando i giocatori Granata uscirono scappando proprio dal paracanata, dopo aver subito un lancio di uova. Tralasciando tutto questo però, dobbiamo capire cosa farcene di tutto questo. Chi è bravo nella vita deve trasformare le difficoltà in opportunità, il canestro rotto di ieri, simbolico quanto vogliamo, offre una possibilità, che si spieghino i programmi futuri di questa società a cui siamo grati per più di dieci anni di Serie A, ma dalla quale vorremmo sapere appunto che ne sarà di noi. Se il progetto del Paracanata da ristrutturare ci sia ancora, se sia legato al basket e come sia legato al basket. Basta spiegare e accetteremo tutto, come sempre. L'unica cosa che ho trovato molto sgradevole è che nessuno ci abbia messo la faccia per chiedere scusa alla città, ai tifosi e alla squadra. È inaccettabile solo questo, davvero incomprensibile. La tempesta perfetta che ha investito i tifosi di Renata domenica pomeriggio è stata completata dallo 0-3 di Castrovillari, classico per come è maturato. In superficie risultato bugiardo, nella sostanza passaggio obbligato di una squadra che va avanti senza una società dietro, anzi adesso con lo spettro di una proprietà che potrebbe trasferirsi altrove nonostante le flebili smentite. Anche qui il che ne sarà di noi è il motivo dominante e il Presidente La Rosa farebbe bene a metterci la faccia e a spiegare cosa voglia farsene del Trapani. Non basta un comunicato di sette dighe per dissipare dubbi e incertezze. Le voci che giungono intanto sono di un'altra rivoluzione in pectore. Via Monticciolo e Marino si dice e si dice anche del ritorno di Torrisi e di un nuovo direttore sportivo. Venghino signori, venghino. Speriamo che il peggio non debba ancora arrivare. Chissà che ne sarà di noi. Cari telespettatori, finisce qui il primo appuntamento con Papaperi e Palloni, rubrica che tenterà di sviscerare ogni settimana quale sia stato il motivo dominante che ha accompagnato le nostre sofferenze e le nostre gioie con lo sport. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie.